Il capo della Lega si prepara per le elezioni regionali anticipate dopo la morte di Iole Santelli, con Nino Spirli stiamo lavorando per portare sotto il controllo dei calabresi la sanità nella regione. Parole al veleno per una campagna elettorale che si preannuncia complicata. La sinistra in Calabria non ha nemmeno il candidato. Ma lo devono portare proprio da Napoli un candidato presidente per le regionali in Calabria. Avesse lavorato bene la si potrebbe dire questo ha sistemato la città e adesso sistema la Calabria. De Magistris ha disastrato Napoli. Quindi ragazzi scegliete bene a ottobre. Lo ha detto Matteo Salvini parlando ai sostenitori della Lega al gazebo impiantato sul lungomare di gizzeria per raccogliere le firme a sostegno dei referendum sulla giustizia. Intanto noi con Nino Spirli ha aggiunto stiamo lavorando per portare sotto il controllo dei calabresi la sanità nella regione perché di commissari esterni ne sono passati tanti e non hanno risolto un problema che sia uno. Grazie a tutti.